Roberto, ciao! Ciao Andrea! Alfa Romeo ha la Targa Florio qui e di casa. Tu ci sai dire che cosa rappresenta per Alfa Romeo la partecipazione alla Corsa? Beh, la Targa Florio, la Corsa, è proprio la madre di tutte le corse e competizioni. Un legame, quello con Alfa Romeo, davvero inscindibile perché dal 1923 Alfa Romeo comincia a gareggiare e a vincere. Ti emoziona sempre il calore degli appassionati che trovi qui in Sicilia? Sì, è un calore quello dei siciliani e della passione che hanno per la loro terra e per la Corsa della Targa Florio che è un po' il simbolo del motorismo sportivo e della competizione pura. Dalla 750 competizione che pilotasti l'anno scorso alla Giulietta SZ di quest'anno. Raccontaci qualcosa, Roberto, di questa preziosissima Alfa Romeo. La Giulietta SZ è una vettura meravigliosa perché porta all'apoteosi il connubio tra un telaio da corsa, la motorizzazione più adatta a tutte le elaborazioni che all'epoca erano consentite e una carrozzeria davvero speciale, un'opera di Ercole Spada nell'atelier di Zagato. Una vettura meravigliosa che esiste in realtà in due forme molto ben distinte, la coda tonda e la coda tronca. In questo caso con la coda tronca è una versione ottimizzata più aerodinamica proprio per l'effetto allungato del posteriore. Grazie.